Angus Cloud, star della serie Euphoria, è morto nella casa della sua famiglia a Oakland in California. Non sono state rese note le cause del decesso, si ritiene tuttavia che il 25enne fosse in difficoltà dopo la morte del padre avvenuta in Irlanda la settimana scorsa. Cloud ha interpretato lo spacciatore Fesco O'Neill nei 17 episodi della serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards. Il solo conforto che abbiamo in questo momento, ha dichiarato la famiglia dell'attore in un comunicato, è sapere che Angus è ora di nuovo con suo padre, che era la persona a lui più vicina.